L'ex ente provincia oggi città metropolitana di Messina si avvia al dissesto economico. La Corte dei Conti, presidente Maurizio Graffeo, consigliere Stefano Siracusa e relatore Marco Fratini ha disposto che le ultime misure finanziarie correttive non vanno bene e che entro due mesi ne dovranno essere consegnate delle altre. A fine ottobre il risponso dei giudici contabili che hanno scritto qualora l'ente non provveda la trasmissione dei provvedimenti o la verifica di esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa. Il commissario della provincia, Filippo Romano, è intervenuto più volte anche a causa della riduzione dei trasferimenti nazionali segnalando l'imponente crisi finanziaria che investe Palazzo dei Leoni. Romano, che ha scritto anche alle procure di tutto il territorio provinciale, ha evidenziato che è impossibile al momento intervenire nell'edilizia scolastica come nella viabilità, tanto per citare alcuni settori di competenza dell'organismo di Corso Cavour. La Corte dei Conti ha sottolineato che le precedenti misure correttive risultano insufficienti e inidonee. Gli ultimi provvedimenti sono stati adottati dal commissario Romano il 26 febbraio scorso. I giudici rilevano che sul piano di dismissione delle società partecipate, nonostante la procedura sia stata approvata e avviata, non sono stati prodotti risultati effettivi. E con riferimento alla gestione dei residui precedenti il 2009 è stato indicato il recupero coattivo, ma i problemi si sono ripresentati nell'esercizio finanziario 2014 dell'ente. Contestata pure l'elevata percentuale di incidenza della spesa del personale su un complessivo pari al 66,9%, con una tendenza in aumento rispetto all'esercizio finanziario 2012.